Un saluto a Ben ritrovati dalla Tg della Mobilità. Sciopero generale nazionale del 16 dicembre sarà a rischio anche il trasporto pubblico. A Roma l'agitazione interesserà le reti Atac e Roma TPL. Per 24 ore dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio saranno quindi a rischio le corse di bus, tram metropolitane e ferrovie urbane Romalido. Termini 100 celle Roma Civita Castellana Viterbo. Agitazione anche nel gruppo Ferrovie dello Stato. In questo caso disagi saranno possibili dalla mezzanotte alle 21 di giovedì.